In questo video parliamo di un componente molto importante del computer, del sistema operativo, ovvero il browser. Normalmente si sente sempre parlare di Brave, Chromium, Firefox. Tuttavia c'è un nuovo browser che per adesso è in alfa, ma secondo me è molto promettente e in questo video faccio già una recensione visto che è già abbastanza usabile. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi seguirmi sui miei due canali Telegram e se ti piacciono i miei video dai uno sguardo agli approfondimenti della Teconsapevole Academy. Li trovi in molti altri video che non pubblico su YouTube. Ok, allora il browser in questione si chiama Zen Browser, utilizza il motore di Firefox, tuttavia implementa delle novità moderne che sono abbastanza interessanti. Provengono, molte secondo me provengono dal browser che appunto si chiama Arc, che però diciamo non è completamente open source, non ho approfondito. Tuttavia la cosa che appunto mi interessa di più di questo browser è proprio il fatto che sia basato su Firefox, perché dà delle funzionalità che nei browser basati su Chromium, Chrome non ci sono. Quindi significa che ha la compatibilità con le estensioni di Firefox e anche le altre funzionalità di Firefox. Quello che cambia in particolare è l'interfaccia grafica del browser, che per quanto minimalista offre effettivamente delle cose nuove che non si vedevano su altri browser. Questo è il sito ufficiale, quindi zen-browser.app e qui ci sono già alcune informazioni nonostante sia attualmente una versione alfa, quindi la versione che c'è adesso è la versione b1.0.1. Potete scaricarlo direttamente da Arch Linux o tramite AUR o in alternativa potete scaricarlo tramite i binari file eseguibili appunto forniti dal sito in questione. Quindi basato su Firefox, open source, sicurezza, community driving e miglioramenti costanti. Quindi molto personalizzabile, le tab non sono sulla barra in alto come normalmente si trovano sui browser ma sono laterali. Quindi cliccando qui potete vedere diciamo per esteso il nome del sito internet. In alternativa sempre cliccando qua avete la versione compatta, quindi solo con le icone. Quindi questo è diciamo un qualcosa di design che però magari su determinati schermi può fare la differenza, potete avere più spazio a disposizione. Allora vediamo velocemente le funzionalità proposte, poi ve le farò comunque vedere una per una. Allora quindi qua abbiamo le split views, quindi la possibilità di dividere lo schermo. Abbiamo la possibilità di avere i workspace, quindi raggruppare diverse tipologie di siti a seconda del caso d'uso del momento. Per esempio avere un raggruppamento per i siti che servono di lavoro, un raggruppamento per i siti che servono magari per le notizie, un raggruppamento per i siti che servono, che ne so, per il monitoraggio di qualche statistica, cose così. Quindi questa funzionalità interessante. C'è una sidebar che onestamente non ho trovato particolare utilità in questa funzionalità, però è presente nel browser. E direi che queste sono le funzionalità principali, quindi sono più che altro di estetica del browser che non del motore di rendering. Allora iniziamo con la prima funzionalità, quindi abbiamo questa possibilità di avere le split views. Quindi immaginate di essere su un sito internet e volete vedere un link ma non volete magari togliere la pagina corrente nella quale vi trovate. Potete fare tasto destro, split link in new tab. Quindi notate quello che accade. Abbiamo sempre la nostra pagina che eravamo e questa qui è la pagina nuova. Quindi possiamo approfondire il nuovo tema in questo modo. Quindi è come se venisse affiancata alla finestra principale una seconda finestra. Ma questa cosa possiamo farla ancora. Quindi di nuovo split view e come vedete in automatico abbiamo questo tipo di interfaccia. Per chiudere queste finestre possiamo fare qua tasto destro chiudi. O in alternativa la cosa che trovo più comoda è quello di fare control w e... No? Allora dove sono? Qua? Ok sì, con anche control w potete chiudere la pagina corrente. Quindi siamo tornati alla pagina pulita anche se mi ha messo il focus poi su un'altra pagina. Riproviamo. Quindi questo è apri in una nuova tab. Quindi apri in una nuova tab abbiamo diciamo una finestra completamente diversa. O in alternativa apri in una split view. Quindi questa funzionalità particolare. E proviamo a fare la chiusura in questo modo. Chiudi. Ok. Secondo me questo è un bug perché mi sarei aspettato che tornava in questa finestra. Comunque con questa modalità potete aprire diciamo le nuove pagine in modo affiancato invece che rimpiazzare la pagina corrente e poi tornare indietro. Quindi questa è la prima funzionalità interessante. La seconda funzionalità interessante è quella dei workspaces. Quindi adesso qui c'ho quattro tab aperte che sono queste. Tuttavia se ho bisogno di determinati siti per il lavoro e non voglio avere troppe tab che comunque confondono un po' la navigazione posso cliccare qua e avere magari delle tab che servono per il lavoro. Non so gmail, github, eccetera. Come vedete stanno cambiando queste palline laterali. E qua torno invece nella modalità diciamo quella di navigazione. Questo è secondo me carino perché appunto evita di avere troppi siti diciamo isolati. Così potete raggruppare i siti a seconda del contesto. Quindi lavoro e workspace di default. E questa cosa si fa cliccando qua con il più. Anzi facendo tasto destro potete appunto passare da una modalità all'altra. E per ogni modalità potete mettere un'icona quindi risulta più facile o in alternativa potete creare un nuovo workspace. Quindi scegliendo un'icona e mettendo appunto altro vi fa un nuovo workspace pulito. Quindi adesso vedete che sono aumentate qui le icone. Quindi questa cosa molto utile per raggruppare le finestre a seconda del caso d'uso. L'altra cosa che viene ereditata da Firefox che forse è ancora più interessante è quella di avere i container. Quindi la possibilità di avere cookie raggruppati diciamo per identità diverse. Questa cosa appunto c'è già in Firefox. Tuttavia unita ai workspace probabilmente è ancora più interessante. Tra l'altro nel workspace possiamo decidere appunto di mappare dei cookie. Per esempio quelli per la banca, quelli personali di default nel workspace. E volendo questi raggruppamenti di cookie potete farlo appunto anche su Firefox. Però qua secondo me diventa diciamo più interessante. Quindi diciamo che i cookie e i workspace, quindi il container dei cookie e i workspace sono funzionalità separate. Tuttavia secondo me collaborano bene insieme. In questo browser si vede effettivamente l'utilità. Vi faccio vedere un esempio molto base. Quindi immaginiamo che qua sono in modalità lavoro. Quindi faccio il login su un sito. Calculator. Ok. Facciamo finta che... No, non sono più nella modalità. Sì. Ok. Quindi sono in modalità lavoro. Sono su questo sito in modalità calculator. Sul sito calculator e faccio il login con, che ne so, l'account di lavoro, l'account aziendale. La cosa interessante è che posso andare, che ne so, da un'altra parte, andare sempre sul sito calculator. Che però in questo momento non mi sta prendendo. Calculator. Allora. Copiamo il sito. Ok. Qui siamo sempre sullo stesso sito, però sono in modalità altro. Quello che posso fare è dire che questo sito lo voglio aprire con i container di lavoro. Ok. Quindi come vedete posso avere... Adesso qua mettiamo... Qui sempre possiamo cambiare la modalità. Mettiamo la viola. Ok. Quindi questa cosa è indipendente dal workspace. Sono due concetti diversi. Quindi qua siamo in modalità lavoro e facciamo finta che mi sono collegato con l'account di lavoro. Quindi sono viola. Invece qua sono in modalità magari personale e sono bianco. Quindi faccio ricarica. Vedete mantiene... Questo non è il cookie, è il local storage. Comunque è un concetto simile. Quindi qua me lo mantiene bianco. E qua me lo mantiene viola. Quindi se facevo questo esempio con Gmail, magari da una parte poteva essere logato con l'account Gmail di lavoro e dall'altra parte possa essere logato con l'account Gmail personale. Quindi queste due cose rimangono attive in parallelo. Quindi si possono avere sostanzialmente account multipli senza dover fare logout, eccetera. L'altra alternativa, quella che si fa su Brave, su Chrome, è quella di avere più profili del browser, che sarebbe questa funzionalità qua, che tra l'altro in Firefox per qualche motivo è nascosta. Il problema di questa funzionalità qui è che se siete in modalità lavoro dovete avere tutti i siti, diciamo quei cookie di lavoro. Se siete in modalità personale dovete avere tutti i siti in modalità personale. Il vantaggio dei workspace e dei cookie container è che possiamo avere anche all'interno delle stesse tab. Quindi facciamo finta che voglio avere sempre questo sito in modalità lavoro, in modalità personale, all'interno, diciamo, dello stesso workspace. Posso fare così. Ok. Quindi qua ce l'ho in modalità personale e qua ce l'ho in modalità lavoro. E come vedete questi cookie non vengono sovrascritti perché appunto hanno questo container che tiene le informazioni separate. Quindi questa cosa secondo me è molto interessante. Le impostazioni sono simili appunto a quelle di Firefox, quindi a parte questa barra laterale e a parte i workspace. Se andiamo nelle impostazioni vediamo che ci sono altre funzionalità ci sono appunto le ZenMods che sono sostanzialmente dei temi o delle funzionalità come se fosse un secondo store per estendere questo browser. Quindi oltre all'estensione di Firefox avete anche le estensioni di questo browser Zen. E come vedete ci sono altre impostazioni che sono presenti sul browser Firefox. Che dire, io l'ho provato un po' e trovo che sia già abbastanza utilizzabile nonostante sia in alfa. L'unica funzionalità che mi sarebbe piaciuto fosse implementata, che purtroppo non è ancora implementata, però è presente come issue su GitHub. E la modalità che ci permette di cambiare colore nel workspace. Quindi se sono in modalità default diciamo è sempre questo colore scuro del tema. Se sono in modalità lavoro è sempre in modalità scura del tema. Quindi non è che, a parte questo pallino, non è che si nota tanto il cambio di contesto. Mi sarebbe piaciuto che si potesse settare un colore a seconda del workspace. Quindi l'unica cosa che potete vedere è il colore della tab, che in questo caso è arancione perché è in modalità lavoro. Se la apro in modalità banking, come vedete me la apre in modalità verde. Quindi possiamo avere il workspace, quello di default, il workspace di un certo tipo e l'altro tipo di workspace. Probabilmente sta cosa confonderà qualcuno, però appunto è utile avere questi cookie container se dovete gestire in contemporanea account multipli. E come dicevo, l'unica cosa che mi piacerebbe vedere è la possibilità di cambiare colore a questi workspace. Quindi non solo il pallino, ma proprio il colore qua del contorno del browser. Per il resto direi che è già abbastanza utilizzabile. Quindi potete utilizzare le estensioni di Firefox, potete utilizzare delle estensioni di Zen Browser, che più che altro sono estensioni che hanno a che fare con il tema. Però anche qua il tema non è per workspace, è diciamo globale per il browser. Per il resto carino. Spero che venga integrato di più nelle distribuzioni Linux, semmai quando sarà più stabile. Però appunto già adesso appunto funziona lo zoom, funziona lo scroll. Quindi è un browser a tutti gli effetti, con tutta la compatibilità che appunto ha Firefox, visto che è quello il motore che viene utilizzato. Questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo browser innovativo, se lo utilizzerete o meno. Come sempre lasciate un like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti. Ecco, sapevole, tecnologia, open source, Linux IP.